All'incontro sulla soppressione delle province e sulla fusione dei comuni svoltosi a Lecce, il leader della minoranza interna degli Azzurri ha lanciato la sfida sui contenuti, smentendo ogni ipotesi di scissione, ironizzando sull'ultimatum che Berlusconi gli ha dato qualche giorno addietro. Fitto ha confermato davanti ad una folta platea fatta di parlamentari e simpatizzanti la volontà di rinnovare Forza Italia non con un'operazione di rottura ma con una riforma dall'interno del partito. Nel suo intervento l'ex ministro ha detto che per ricostruire Forza Italia e il centrodestra ci vorrà qualche anno. L'europarlamentare ha liquidato velocemente con una battuta l'ultimatum di Berlusconi scegliendo la linea del confronto all'interno del partito. Più che un confronto, quello che si prospetta è una vera e propria battaglia, ma i tempi sono posticipati subito dopo l'apertura delle urne alle regionali di maggio. Quanto alla designazione di Schittulli, candidato alla carica di governatore, Fitto non farà mancare il proprio apporto, ma a pesare sulle scelte future sarà la percentuale di Forza Italia in Puglia. Non è escluso che l'ex ministro presenti liste a lui collegate così come avvenne cinque anni fa. Il refrain sulla rinascita di Forza Italia riguarda proposte concrete rispetto ai temi da affrontare, oltre ad una visione non verticistica del partito. Sulla questione della linea politica rispetto al governo di Renzi, Fitto ha spiegato le ragioni del suo no alla riforma del Senato, perché non supererebbe i limiti dell'attuale bicameralismo a quella elettorale perché darebbe tutto il potere decisionale al partito di maggioranza. Rispetto all'Europa, duplice l'atteggiamento da parte di Renzi, coraggioso nelle dichiarazioni, secondo Fitto, ma susseguioso nei provvedimenti firmati su indicazioni di Bruxelles.